Mostra d'Aquiterme da Balla a Sutherland, vediamo. 40 mostre al liceo Saracco, cominciate nell'estate del 1970, con i disegni dell'Alessandrino Pietro Morando, che hanno attraversato l'arte italiana del Novecento, passando per De Chirico, Sironi, Casorati, Morlotti, Burri, Balla, con l'aggiunta dell'inglese Graham Sutherland, l'unico straniero. Il comune di Aquiterme rievoca questo percorso d'eccezione, punto di riferimento artistico per il territorio, con una mostra antologica che riassume tutte quelle precedenti. Qui ha rappresentato un punto fermo nell'arte italiana del Novecento, partendo nel 1970 con mostre antologiche sui nomi più importanti della pittura e della scultura italiana. Come se ad Aquiterme si fosse scritta proprio una pagina di storia dell'arte, c'è tutta l'arte maggiore del primo Novecento, alcuni stranieri e alcune antologiche molto belle. È una storia proprio dell'arte fatta ad Acqui. Appuntamento ad Aquiterme, da Balla Sutherland, 40 anni di mostre a Palazzo Saracco dal 4 luglio al 29 agosto. Bene, chiudiamo così questa prima edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento come sempre per questa sera alle 19.35. Ora vediamo il medio, vediamo che cosa ci riserva questo tempo così strano. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.